Quindi siamo lieti di aver completato questa 69esima edizione del Carnevale Massaprese. La macchina organizzativa ha funzionato perfettamente e abbiamo ritrovato quei colori, quella gioia, quell'allegria e anche un po' quella determinazione di noi massapresi di voler portare avanti questa bellissima tradizione. Siamo contenti, ci tenevamo tanto a ripartire dopo due anni di pandemia, lo abbiamo fatto, lo abbiamo fatto anche introducendo un tema e i nostri maestri cartapestai sono stati davvero all'altezza di rispondere con capacità artistica eccelsa a questo tema We Are in Puglia facendo delle opere e delle strutture che ci hanno permetto di riscoprire noi stessi l'orgoglio di essere massapresi e di essere pugliesi. Siamo sulla strada giusta, vogliamo far crescere il nostro Carnevale e farlo diventare sempre più punto di riferimento non solo della nostra provincia ma dell'intera regione. L'appuntamento è senz'altro nella nostra tradizione al Carnevale invernale. Questa edizione del Carnevale fatta in estate ci sta davvero convincendo del fatto che probabilmente anche doppiare il nostro Carnevale può essere un'idea sulla quale riflettere anche perché la destagionalizzazione del Carnevale fatto cioè in un periodo, in un mese come questo, come nel mese di giugno, ci consente di entrare in sintonia con le strategie della regione Puglia che vogliono creare eventi di attrattività culturale e turistica in tutti i mesi dell'anno. Quindi ci proveremo.